Ora andiamo a prendere il regalo per le bimbe. Non fa una giornata con Dottor Palmas e ci segue. Io sono con Ovidio, oggi il nostro tecnico. Faccio io la giornata con Dottor Palmas. Allora, qua stiamo terminando, qua stiamo montando tutte le tavole. Ora qua ci sarà l'aspetto di tutto il laboratorio e avremo anche qua a Bucarest un laboratorio. Ti devi semplicemente rimettere nelle mani di uno professionista che fa rifacimenti. Rifacimenti significa dove finiscono gli altri, iniziamo noi. Questo è il brand con cui siamo diventati famosi anche in Romania. Ora andiamo a prendere il regalo per le bimbe, che oggi compiano 13 mesi. Hanno già fatto l'anno, però a casa è tradizione che si festeggia ogni mese. Non so cosa serve. Serve il regalo per la madre, che si rilassa. E oggi si gioca a tenis. Allora, dopo, ricordatevi tennis alle 8. Prima passiamo a casa a dare un bacio alle pupe, alle bimbe, che staranno dunque, che ora sono quasi le 6, la merenda. Staranno facendo la merenda adesso. Oh, ma hanno lasciato le chiavi fuori di casa. Ma guarda. Wow, dormite, guarda, ci sono le chiavi fuori. Vieni da qua, Nola, devi filmare da qua, è troppo bella. Chi c'è qua? Vasile, vero? Con la telecamera. Che sta facendo? Oggi è il 13 mesi. Il 3Gversario, il 13Gversario. Dovina cos'è? La tenda. Così quando andiamo al parco, abbiamo ombra. Quando la domenica andiamo al parco. Se tu vuoi mettere gli impianti dentali, devi avere le luci. Prima di tutto, se no non vedi dove lavori. Dopo, bisogna intanto capire tutto quello che c'è dentro. Una volta che hai capito quello che c'è dentro, capisci anche come vanno messe insieme. Ok, con le mani qua, ti regoli. E' normale. Cosa sta facendo mamma? La vita è un party. Dovete divertirvi. Se sapete giocare a tennis, siete sfidati. Contro Dottor Palmas, quando venite a Bucharest vi metto alla prova. Andiamo. Andiamo. No. 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 So. No.